Nothing is Possible è nato da fare dal riff di chitarra ed è uno dei pezzi direi che come ogni tanto ci succede che esce di getto in sala prove i brani che nascono in una sessione di prove di due o tre ore invece ce ne sono altri magari che hanno un parto che dura mesi se non addirittura anni con continui tagli, riarrangiamenti, cambiamenti invece questo brano era già pronto era già pronto l'unica cosa che ricordo è che era già pronto tutto tranne il ritornello quello lì che è stato aggiunto dopo tipo alla sessione di prove successiva abbiamo deciso di aggiungere quel ritornello lì invece alla prima sessione di prove avevamo fatto una stesura senza quella parte lì Grazie a tutti 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 Special e poi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti